Vedi che spiaggia che c'è? Ah, per l'argomento. Troppo l'ore là del mare. Sì, perché lì si confonda un po', si abbassa di porta. No, d'acqua. Potremmo andare là? Sì, sì, ci siamo andati da nascosta. Devi camminare un po', dove ci vanno? Tra le altre come ci vanno? Sì? Da una strada. Cioè, fino a giù non si vanno con la pietra. Dipende dai piedi. Sì, non mi fanno portare la roba, le cose. C'è la strada. Ci sta la strada. Sì. Grazie a tutti. Per la riamezza. E adesso ci è presto? Noi stai. Ci sono stati in un po' di queste strada.